Cosa sta preparando? Il fritto alla ligure di coniglio impanato, salsiccia e verdure di stagione, carciofi, melandaia. A seconda della stagione poi cambiano le verdure? Eh sì, man mano. E si fa tutto l'anno? Sì. Il coniglio e la salsiccia rimangono fissi? Fissi. E le verdure cambiano? Le verdure. Quindi vengono impanati con cosa? Impanati con pane e uovo. Il coniglio è impanato con pane e uovo, aromi liguri, timo, rosmarino e salvia, frittati pienamente. E poi melanzana, adesso scorso nera. Comodoro verde e impanato. Finocchi. Carciofo. Latte brusco. E raviolo fritto. Allora il latte brusco lo spieghiamo cos'è? È un tipo di bechamel con burro, aglio, cipolla, prezzemolo e poi aggiungiamo la farina, il latte. Tanto basta per addensare una bechamel un po'. Vienta quasi una pasta morbida. Sì. La mettiamo in un vassoio. Dopo aver stemperato dentro sei, otto rossi d'uovo. Poi col bianco dell'uovo che rimane, li impaniamo. Il fritto è pronto. Il fritto è pronto. Quindi coniglie e salsiccia, li togliamo. Uno. E le verdure. E tutte le verdure. Sì. Il fritto è pronto. Allora andiamo avanti con la pastella. Zucchini, cipolla, ripetiamo il pomodoro perché adesso fiori di zucca non ce n'è. Foglia di boragine, salvia e rosmarino. I profumi della Liguria. Sì. E lo andiamo a mettere nell'olio caldo. Allora, due anti-pasti con un raviolo di grattato, con due cacciocci. Ecco qua. Queste sono le verdure pastellate. Sì. Sono pronte. E anche queste le andiamo a impiattare. Sì. Sì. Ciccina, cipolla, rosmarino, carciofo, salvia e boragine. Il fritto misto alla Ligure è stato preparato da Elda, da Casetta Agriturismo, Gorgio Berezzi.